Lo sportello del mare si conferma una realtà di primo piano di Filippo per quanto riguarda il Marina di Pescara, una delle migliori realtà anche a livello nazionale per i servizi che offre. Oltre a rivolgersi al diporto, si rivolge anche alla marineria professionale sia mercantile che peschereccia. Infatti oggi presentiamo delle attività sia svolte, un'attenzione appunto a quei corsi importantissimi che svolgiamo in favore sia della marineria professionale e anche a favore dei diportisti. I servizi importanti che proseguiranno anche nel periodo invernale tra l'altro? Sicuramente intanto sono servizi gratuiti ed importanti e ci saranno una serie di seminari che terremo in quest'inverno sulla sicurezza della navigazione, sulle tecniche, dal carteggio all'uso degli strumenti di sicurezza, al pronto soccorso, al green rispetto anche del mare, alla normativa fiscale sia per i diportisti sia per la navigazione anche grazie alla capitaneria di porto di Pescara. Presidente Becci, lo sportello del mare rappresenta una delle eccellenze del porto della marina di Pescara per un nuovo e ulteriore sviluppo anche in vista della stagione invernale. La cura dei diportisti, degli operatori, la cura delle attività che girano attorno all'industria del mare sicuramente ci riguarda e ci riguarda in modo importante, avendo la nostra città, in particolare la Camera di Commercio, questa bellissima infrastruttura che negli anni ha retto bene, come ribadisco, ma soprattutto ha visto anche investimenti molto importanti da parte del socio unico che è appunto la Camera di Commercio. Ribadisco il concetto, la formazione, il seguire le attività, nonostante la crisi del settore, significa guardare al futuro con un certo ottimismo.